Tra le tante storie che ha regalato questa stagione dei baby bianconeri c'è anche quella dei fratelli Simone e Andrea Paffundi. Partiamo da Simone, una partita oggi che mette il bollino su quanto hai fatto tutta questa stagione, nonostante l'infortunio hai messo il tuo timbro a finale, complimenti. Grazie mille, sì, sono molto felice, peccato che non ho segnato, però... Hai fatto segnare gli altri. Molto contento perché meritiamo tutto quello che oggi abbiamo dimostrato. E poi naturalmente anche per Andrea l'ingresso nella ripresa per chiudere assieme. Sì, è stata una partita in cui abbiamo dato tutto quello che avevamo per raggiungere questo grande obiettivo, io ho dato il mio contributo per quello che ho potuto e niente, è meritata per tutto quello che abbiamo fatto sin dall'inizio dell'anno. Il sogno per il tuo futuro, il vostro futuro? Il mio sogno è quello di fare l'esordine Serie A con questa maglia perché ci sono molto legato. No, Cla? Bravissimo, bravo! Abbiamo anche Claudio Valeri qua, instancabile team manager con i ragazzi, non ha voluto parlare per non sbilanciarsi nel pre-partita, ora ti tocca. Beh, faccio i complimenti a tutti e ai ragazzi, al mister, alla società che ha creduto in noi e speriamo nel futuro con questi ragazzi qua. Grazie a tutti voi, siete stati gentilissimi anche oggi, grazie. Un grazie anche ai genitori e ai tifosi che sono accorsi in tantissimi. Veramente tanti oggi, veramente complimenti a tutti, grazie e in bocca al lupo, ciao!